Il Presidente Carmelo Ceselli ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale di Tolentino che si terrà a martedì 18 maggio alle ore 16.30. Questi gli argomenti all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco e o del Presidente, conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto, variazione di bilancio propedeutica per l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023, aggiornamento programma triennale lavori pubblici 2021-2023, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, approvazione e secondo aggiornamento, modifica piano di valorizzazione del patrimonio 2021-2023, ricostruzione post-sisma 2016 dell'area centro storico del Comune di Tolentino con definizione degli aggregati edilizi da recuperare con interventi unitari. Infine, adozione del piano di recupero di iniziativa privata in via Flaminia, in variante al piano regolatore generale. La seduta del Consiglio si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Nei giorni successivi, sempre su canale 14, verrà riproposta in altri orari.